Lula, l'ex presidente del Brasile, è libero. Il giudice infatti del Tribunale Penale Federale di Curitiba ha accolto la richiesta della difesa dell'ex presidente brasiliano Luiz Ignacio Lula da Silva. Per la sua scarcerazione lo ha autorizzato a lasciare la prigione di Curitiba, dove sta scontando la sua pena dall'aprile del 2018. Era agli arresti proprio da questa data, con la grave accusa di aver corrotto e addirittura di riciclaggio. Denaro nell'ambito dell'inchiesta lavaiato, considerata le mani pulite del Brasile. L'ex presidente era sicuro della sua scarcerazione, che aveva già annunciato prima della decisione ufficiale del giudice. attraverso un discorso proprio alla nazione. L'ottimismo di Lula era abbastanza percepibile e alla fine è stato premiato attraverso la relativa scarcerazione che si è venuta a verificare e si è venuta a creare. Vi ringrazio in primis per la visione, vi ringrazio in secondis per l'ascolto di questo video. Complimenti a Lula. Iscrivetevi al prossimo video da Leandro, un narratore italiano.